ciao ragazzi oggi guardate che cosa qui con me ho un nuovo gioco per la nintendo 3ds ho Yoshi's Wally World è uscito proprio da poco e ragazzi io non so minimamente come si gioca guardate la scatola è ancora tutta sigillata anche l'amiibo quando aprirò insieme a voi apriamola capì quanto è carino andiamo ecco 3 2 1 schadino 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 di memoria poi Washi e pucciche adesso entriamo un attimo ecco qua entriamo 3 2 1 a che a questa ok faccio una partita in quello verde fai 1 a mio gioco modalità classica questa modalità è consigliata ai giocatori più esperti in questa modalità giocherai in modo tranquillo e spensierato no voglio giocare in questa modalità classica anche se non so praticamente di niente però voglio fare questo puoi cambiare modalità in qualsiasi momento grazie ok allora vediamo e a gomitolo che vuol dire che a gomitolo vabbè impugna gomitolo ci proveremo lo stesso sull'isola gomitolo un piccolo isolotto nel bel mezzo nel bel mezzo dell'oceano filato gli Yoshi vivevano in pace tranquilli e spensierati tuttavia un brutto giorno che cosa è successo di un brutto giorno che cos'è che cos'è che carino salve piccoli Yoshi scusate il disturbo ma devo trasformarvi in tutti i gomitoli di là no 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 non lo farei no lo deve fare uffa uffa quanto ci mettete trasformatevi tutti quanti in gomitoli no 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 ok il rosso e il verde si sono nascosti va bene comunque il rosso e il verde si sono nascosti per fortuna vediamo ecco così dovrebbe stare è ora di tagliarli di tagliare la corda ehm il filo correte voi Yoshi siete proprio delle teste dure altro che teste di lana e così per gli Yoshi ha inizio una nuova entusiasmante avventura Yoshi Yoshi che cos'è? qui ah qui sono preso un gomitoro di lana un gomitoro di lana mi segue di no basta ecco weee weee ah ok o oh 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 no no che dire posso correre per favore così si ci pare lento io pensavo che non c'era che carino questo salto sbozzante tieni premuto a per fluttuare in aria per breve tempo ho trovato due gamitano i giganti se lancio qui prendo delle palline se ci salto su non funziona prima all'inizio funzionava invece se ci sparo funziona qui è proprio morbidoso questo gioco a proposito proviamo gli amiibo che succede che succede ecco il mio amico il mio amico ragazzi è puccioso morbido è tutto di lana come fa vedere lui adesso proviamo amibo tu che tu ci scrivi ecco il mio amico 321 che succede? si ciao Yashin Yashin mi guarda me con gli amiibo ragazzi secondo me posso moltiplicarmi tante volte gli amiibo ah no guardate se faccio così mi prende un altro amiibo guardate ecco è un altro amiibo invece se lo rifaccio me lo toglie questo amiibo qui che ho messo che carino che ancora devo rifare da capo tutti perché sono morti una volta cioè è morto il gioco dico a questi tempi ragazzi guardate c'è questo fiore ho fatto crescere questo fiore e poi si deve andare di qua poi si va di qua si salta in questo e il livello sarà finito un attimo che lancio boom arrivo ragazzi spero tanto che questo gioco wishing wally world vi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto questo gioco e questo video iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da leonardo e i nostri amici gomitolosi ciao ciao